Alexei Borisovic è stato nominato a questa posizione non molto tempo fa, da poco ricopre il ruolo di governatore della regione di Kursk, ma la vita vi pone davanti a compiti straordinari e complessi per aiutare le persone. Qui non sono sufficienti solo le vostre conoscenze professionali, abilità ed esperienza professionale che senza dubbio avete. Questo richiede da voi, la situazione attuale richiede un certo coraggio, concentrazione nel risolvere questi compiti difficili, complessi e straordinari, che affrontano ora tutti i rami e i livelli di potere, incluso il governatore e il vostro team. La situazione nel suo complesso naturalmente mi è nota, tuttavia vorrei sentire la vostra valutazione della situazione nella regione al momento. E alcune parole riguardo all'organizzazione del lavoro dello staff e al coordinamento delle attività di varie autorità. Prego, Alexei Borisovic. Grazie, Vladimir Vladimirovich. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per la fiducia accordata e per avermi nominato a questa posizione nella nostra regione di confine proprio in questo momento cruciale e per il sostegno che state offrendo alla popolazione della regione di Kursk. Il nostro quartier generale lavora ininterrottamente e, se necessario, ci riuniamo di persona, oltre a sentirci telefonicamente ogni giorno, quando c'è stato un attacco delle forze armate dell'Ucraina sul territorio della Federazione Russa, nel distretto di Suzhansky, nella regione di Kursk, questo alle 5 del mattino del 6 agosto. Il nemico, con forze di fanteria e blindati, ha tentato di rompere i nostri confini nazionali. Il comando si è riunito immediatamente e, insieme a tutti i membri del comando, coordinano praticamente ininterrottamente questo lavoro. Sono coinvolti tutti i vicegovernatori, il nostro governo regionale e tutte le forze dell'ordine che fanno parte del comando, più il Ministero della Difesa. Il governo federale ci dà un supporto continuo, sono in contatto costante con il Presidente del Governo e con i vice. Sono in contatto con Diumin, assistente del Presidente russo, e Inachev, Ministro della Difesa. Qui sono presenti i vice di molti ministri e agenzie. E prima di tutto, valutata la situazione, abbiamo iniziato ad evacuare la gente. Era un problema abbastanza complesso, perché questi DRG, le truppe ucraine, attaccano civili e ambulanze, che ha sacrificato la sua vita. Ci sono casi in cui i medici sono morti, portavano via la popolazione. Abbiamo coinvolto l'amministrazione locale e regionale, veicoli blindati, trasferiti, che una volta ricevemmo dalle banche per il trasporto, valori più ora ulteriori, fino a 80 unità. Le banche forniscono, per trasportare persone in sicurezza, a una distanza di sicurezza, da cui abbiamo poi organizzato l'evacuazione, con autobus di grande capacità. Questo lavoro è andato avanti tutto il giorno e continua negli punti di raccolta temporanei. Abbiamo posti disponibili, liberiamo continuamente edifici e locali per questo. Gli operatori economici ci sono venuti incontro. In più abbiamo concordato con l'RZD. Ci sono arrivati tre treni, dove possiamo ospitare altre 2400 persone. E sono arrivati altri otto treni, dove possiamo sistemare le persone, fornire loro aiuti umanitari e mandarli subito per ferrovia. Perché quasi tutti i governatori delle regioni della Federazione Russa hanno risposto e forniscono tali luoghi. Quindi trasporteremo le persone dalla regione di Kursk sia in autobus che in treno. I colleghi le sistemeranno lì. E' stata prestata immediata attenzione anche alla medicina. Nel primo giorno abbiamo aumentato il numero delle squadre di pronto soccorso a 34, liberato posti letto negli ospedali. Abbiamo inviato lì una scorta di emergenza di farmaci, medicinali, materiali di medicazione. Messo a lavoro 16 squadre mediche, chirurghi, traumatologi. Adesso, con il supporto del Ministero della Salute della Federazione Russa, abbiamo già aumentato il numero dei letti a 1.800. Abbiamo 61 squadre che provengono da varie regioni. Sono arrivati altri 60 medici altamente qualificati. Alla base prevista per questo trasporto di aiuti umanitari di emergenza, le cose vengono portate, i mezzi REP, i mezzi di comunicazione, che sono anche inviati prima di tutto alle persone colpite e sono anche assegnate alle forze dell'ordine se necessario. Vengono inviati volontari e membri del DND che partecipano all'evacuazione delle persone dai luoghi potenzialmente pericolosi. Il quartier generale si riunisce ora secondo necessità. Tutti sono ai loro posti di lavoro. Oggi la riunione del quartier generale è stata ampliata già con i rappresentanti dei ministeri e dei dipartimenti federali. Ho anche dato istruzioni ai miei vice e al servizio federale antimonopolio della regione di Kursk per controllare insieme. Ci sono casi in cui i punti vendita negli hotel e nella ristorazione stanno aumentando i prezzi senza giustificazione. Cioè stanno approfittando di queste persone colpite. Questo naturalmente lo fermeremo. Ho anche avuto negoziati oggi con Sekhin Ivanovic il nostro tipo di carburante indispensabile per mantenere stazioni attive e ben rifornite. Avevamo delle riserve. Inoltre lavoriamo sistematicamente con loro per garantire che tutti i complessi di rifornimento siano dotati di mezzi RAP e sistemi di protezione antiproiettile. Abbiamo un call center 112. Riceviamo le chiamate lì e rispondiamo a ciascuna chiamata. E oggi è stata presa la decisione che per i dipendenti pubblici che hanno lavorato in questi territori di mantenere lo stipendio medio. Ottenendo fondi dal bilancio regionale a scapito del bilancio regionale chi ha scapito del bilancio municipale o in affari è consigliato loro di sostenere gli stessi eventi. Grazie mille per il vostro supporto. Ho già riferito a voi e al governo della Federazione russa. Ieri sono stati ricevuti anche i primi fondi per la ricollocazione dei residenti dalle aree potenzialmente pericolose. Abbiamo formato tutte le liste approvate continuiamo questo lavoro. Ho riunito i costruttori della regione di Kursk. Abbiamo una quantità sufficiente di alloggi sia sul mercato primario che su quello secondario. Questi sono appartamenti e case che le persone possono acquistare. I fondi sono assegnati in base al costo per metro quadrato. Minstroy Rush abbiamo già trasferito 4,47 famiglie. Questo lavoro continua. Tutte le questioni che sorgono ulteriormente le discutiamo con i colleghi in modalità di quartier generale e cerchiamo di risolverle. chiedo inoltre di supportare il pagamento una tantum a quelle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa di questi eventi di 10.000 rubli a persone. si trova nel punto di accoglienza e non ha nemmeno preso il documento. Noi ovviamente forniamo tutta l'assistenza possibile ma si propone anche questa misura a spese del bilancio federale. Ho finito la relazione e continuerò a riferirvi sistematicamente come ho fatto prima. Grazie. Sono pronto a rispondere alle domande. Alexei Borisovic come il presidente del governo e... Abbiamo parlato proprio di recente. Consideriamo la decisione di un pagamento unico di 10.000 rubli ai cittadini che ne hanno bisogno come presa e le risorse necessarie saranno destinate. Inoltre sarà necessario valutare anche altri danni. Per favore, con i colleghi di diversi dipartimenti comprese le linee MS questo lavoro dovrà essere svolto. Si intende la perdita di proprietà, la perdita di alloggio tutto questo dovrà essere fatto su vasta scala e... come dico sempre in questi casi bisogna assolutamente lavorare direttamente con le persone raggiungere ogni famiglia. Il Ministero della Salute sta lavorando lo avete anche osservato. abbiamo pianificato di tenere l'incontro di oggi con voi in modalità personale ma le circostanze si sono evolute in modo tale che ora ovviamente dovete essere presenti ma continueremo questo lavoro e questi contatti con voi comprese le prospettive di sviluppo in generale nell'area Kursk La regione di Kursk è una zona molto promettente molto interessante e sono sicuro che lì vi sarà interessante lavorare. Da parte vostra farete tutto affinché la regione di Kursk affronti i compiti di sviluppo che deve affrontare. Beh, e ovviamente voglio tornare ancora una volta su questo. Ora bisogna lavorare direttamente con le persone colpite con le famiglie colpite essere il più vicino possibile alle persone. Grazie e rimaniamo in contatto.